Ehi fratello ce lo sai, qui è FortiGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi nuova challenge, se trovo Deku il video finisce. Continuiamo la nostra streak riguardo le skin di Mero Academy. Lascia un like, iscriviti al canale, attiva la campanellina altrimenti ti perdi tutte le prossime sfide che arriveranno e scrivete nei commenti una sfida che vorresti vedere. Nammo in game. Allora, la skin di Midoriya ha secondo me più semplice da trovare di quella di All Might per il semplice fatto che All Might è una skin pay to lose se la si usa nella versione standard quando attivo il One for All è letteralmente una skin gigantesca cioè veramente trascende Hulk come difficoltà di utilizzo. Niente, Deku è semplicemente più comprata. E vediamo, anche se non vi faccio spoiler riguardo la skin di All Might ma già ho fatto la sfida su quella, vi lascio il video in alto a destra e pure lì la situazione è particolare, nel caso vedete il video. Teniamo un attimo di curarci e poi andiamo subito a cercare nemici anche perché voglio fare un game aggressivo, voglio, capito, papapà voglio essere la cosa più veloce sulla faccia della terra. Oh, fratello morto, no, no, non scherzare. Vabbè, dovevi per forza almeno darmelo un colpo, eh, se no non andava bene. Gente da quel lato che fai, andiamo, 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 non perdiamo tempo. Eh? Cosa? Anche il bro non ci crede, ti ho dato due colpi di partello, come hai fatto? Che cosa imbarazzante, veramente, fortemente quando fa queste cose mi fa... Veramente essere una persona, essere una persona comunque volgare, ecco, senza utilizzare terminoni. Mi fa essere una persona veramente volgare. Il bro crede che io abbia tutto il giorno. Ma non mi ha sentito proprio? Ciao. No, no, devo andarmene. Ciò dalle spalle. Non devo fermarmi, non devo fermarmi. Questo non... Se mi vede sono morto. Ok, tutti zitti. Tutti zitti. Tutti molto zitti. Non ci credo. Mamma mia. No! No! È morto pure lui, io non ci voglio. Credere alla mia esistenza è così senza senso. Ormai non so neanche più come iniziare le partite. Cioè, beccatevele così come solo perché... Io così me ne sto beccando in faccia, come una martellata. Andrò da un nemico, esatto. Mi farò scartavetrare l'esistenza. Nel più semplice dei modi, così. Ecco. Easy. Uno. Ah, c'ho l'arma adatta, c'ho l'arma adatta. No, non morire. Non morire. Dai. Ah, questo utilizza il martello, mo' palese. Ah, mamma mia. Che brutta cosa che ho fatto. Ah! Come sono un palese merte morto. Ok, dai. Rischio, eh. Rischio, rischio. Mamma mia. Lei è un bot nelle mani. Ah, ma è un bot. Vabbè, no. Allora non conta. Morendo. Mamma mia. Che stupida persona che sono. Veramente è un babbo. Un colpo? Ok. Mi stava veramente buggando il personaggio. Al momento perfetto, poi. Ah! Codo! Beh, sei morto, fra. No! Ma davvero? Ah, si è curato quasi totalmente. Mamma mia, gli si è buggato. Non ci credo, bro. T'hanno sparato, Codo. Tutta gente è incapace, eh. Cioè, ma che è qua? Da fastidio questo. Bash Warrior, si attiva? E' chill. Subito. Ma sono un bot? Eh, non ho capito mica. Madonna, sono morto io. Mannaggia a te, va. No, è una raga! No! Ho fallito la sfida. Ma io oggi sto trovando Deku. No, no. Sto impazzendo totalmente. Quella di Uraraka l'ho già registrata. Sto impazzendo, ragazzi. Sei scusato? Ma sei serio, fra? Ma sei... Ma perché? Perché? Perché hai dovuto fare questa cosa? Mi sa che il tizio non sa che sono salito. La cosa mi rincuora. Dai i treni, frate. Grande. Gigantesco. 10 kill. Comunque sfida vinta, nel caso. Eh, ora dobbiamo continuare, ma la sfida ce l'abbiamo. No, va bene la lobby. Nella lobby di fronte agli occhi! Nella lobby di fronte agli occhi!